in questo video e siamo andati un po avanti dall'ultima volta in quanto già avevamo prima quest'auto qua e vabbè niente di che adesso abbiamo questo e ci divertiremo un po cercheremo di finire il livello e niente continuiamo ovviamente siamo sempre studiati la musica perché perché dà fastidio da fastidio da fastidio eppure stanotte un pensiero mi fotte qualcuno ti aveva stretto più forte di me guardate che x che c'è eppure stanotte esti e io vado comunque nel frattempo che gioco questo gioco qua stavo già pensando a un altro gioco diciamo sempre di zombie che gli zombie ci stanno e stavo pensando a questo gioco qua infatti in cui una battaglia tipo pvp contro contro gli zombie diciamo ti fermi diciamo un clash reale di zombie però è una cosa un po diversa magari in contemporanea questo ogni tanto farò uscire un video anche di quello che ci sta magari adesso come lo scarico e fa un po bestemmiare come gioco e quindi lì ne vedremo delle belle anche lì nel frattempo qua siamo messi un po neanche troppo male perché il veicolo è è appredato quasi il massimo io mi dico che deve giocare dio porco per il suo pezzo di colazzo eh ragazzi non dovrei neanche bestemmiare però guardate mi scappa guarda porco di dai 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 porca troia adesso ho finito la propulsione vai 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 questo copo è praticamente rimasto senza la capota siamo andati un po' più avanti dai guardiamo questo ci sono dei mezzi ragazzi che facciane anche vedere perché adesso farò un piccolo taglio magari e ci rivediamo quando sono un po' più alla fine di questo livello perché però è tutto semplice poi arriva dopo le parti belle faccio un taglio e ci vediamo dopo ragazzi ok ragazzi dovremmo esserci quasi come vedete non è neanche potenziato tutto ma in teoria ce la facciamo guarda dove ormai è alla fine questa volta ci trovo a riuscire se no veramente potrei bestemmiare e dopo sblocchiamo l'auto degli sbirri perché giustamente qui ne vedremo ho già scaricato l'altro gioco lo inizieremo un po' insieme diciamo perché secondo me piace lo consiglio ce l'ho giocato e era carino però fa bestemmiare dopo ce l'ho lasciato lì perché non avevo più sbattere di bestemmiare dopo oggi pomeriggio mi sa che andrò a fare un giro in una certa isola celestina in mezzo alla foresta cercano a trovare l'acqua è bello esplorare conti dicendo cosa tua che non sapevi neanche l'esistenza dio bambino termino questo video dopo mi sa che andrò via anche perché dopo farò le cose con calma chill chill bro bello bello Ok, forse non c'è stato neanche bisogno Di fare robe strane Ok, abbiamo completato la missione Wow, sta diventando così ricco che non riusciamo a visualizzare tutto il turno Più semplicemente 261.000 uguale a 261k Beh, ci sta, ci sta, non è che cambiava l'altro Ah, guardate qua che figate che ci sono Che figate Prendiamo questo E qua è un po' molto bello Dai ragazzi, ci vediamo al prossimo video E dai